ok ragazzi eccoci qui nella partita della non aggiornata di serie a made intergenova cosa la partita che dicevo mi ricordo una l'ho vinta un intergenova ragazzi miniatura allora siamo nella non aggiornata inter versus genova ragazzi sono la miglior difesa ancora di questo campionato con 13 reti subite me ne basta una rete subita e vado al pari di fruttiver con 14 reti subite quindi devo stare molto attento voglio mantenere questo campionato questa cosa personalizza profilo carica rose baricate andiamo modalità veloci ciò con casa stavolta contro il genova buongiorno frank ciao phil ho visto che hai fatto qualche vittoria attenzione stai con cerca di arrivare che ti stai riprendendo piano piano non devi fallire il tuo obiettivo questa si perde mi sa il genoa è la seconda squadra più forte del campionato attualmente ottimo ottimo grazie a tre di queste belle parole che mi dai e se mi dà l'arbitro colorato si trova frank fai bene fai bene fino all'ultimo fatto detto se stai per fallire puoi vendere dei giocatori c'è ti fai dare dei soldi in anticipo da qualcuno che però gli vendi dei giocatori quando sarà apertura del mercato contratto formazione solo che età vedo ambrosio non ce l'ho venduto ok postazione di gioco vista 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 rieccomi io ho collegato pc e console ma appena li collego non mi fa usare il pad su console come mai allora devi scaricare il play ok una volta che li colleghi il cavo dell'usb deve essere attaccato al al pad e deve essere collegato al pc non alla playstation mi raccomando al pc apri playstation remote premi option e ti parte la ricerca della playstation comunque segui bene il video passo passo poi ovviamente ora non posso stare a spiegare bene bene però quello che ti posso dire tante persone mari tenevano il cavo attaccato alla play invece l'attaccato al pc mari hai fatto questo errore qua diamo non la giornata ragazzi come vedi dal video si fa i passaggi giusti non hai nessun problema siamo a san siro nella scala del calcio taglio meraviglioso un saluto la parte mia non aggiornata di serie a made ragazzi la carriera online l'unica che vi porta il franconi siamo pronti vediamo un po' la classifica mi ha detto Ettore l'aveva aggiornata in tempo reale ho manchiato un attimo classifica marcatori classifica generale attenzione inter 8 partite giocate sono ottavo la roma è sopra di me con 10 partite giocate attenzione due punti dalla roma quindi basta due pareggi e due vittorie però dopo col sassuolo perderò sicuramente quindi questa partita dovrei vincere per superare la roma e ghignare la faccia di quello schifoso di di ugan e se vincessi di regola potrei superare anche il bologna il bologna c'ha 9 partite perché lui ne ha subito 26 ha fatto 34 reti però quello c'era ok ora funziona ma devo sempre lasciare collegato il pc con la console sì 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 il pc deve essere acceso quello sì quello allora il problema era cioè il caricatore del pad una volta che questo è attaccato al pc te lo carica da solo te lo carica in automatico il pc proprio l'ambientazione del pc buona vediamo la sento io questa partita dimmi che l'arbitro si vede bene oh un arbitro rosso finalmente cioè nel senso se io voglio la riproduzione remota devo sempre tenere il pad in carica con il cavo usb dal pc alla console giusto sì però potresti anche usare una chiavetta una chiavetta che invece che tenere il cavo usb ti usi questa chiavetta attaccata al computer è una chiavetta di playstation remote invece che il cavo ti fa usare quella è una chiavetta dovremmo quella qua vediamo se la trovo vabbè ora non ce l'ho però è una chiavetta usb da attaccare dietro una chiavetta da attaccare dietro siamo pare con una fruttiva con le reti subite è una chiavetta invece che usare il cavo ti attacchi questa chiavetta madonna non so se nel video dico il nome devo partire comunque la chiavetta o usi il cavo o la chiavetta ma ti consiglio il cavo perché c'hai tutti gli input a moda vabbè uso il cavo comunque grazie grazie a te c'è l'ho fatto sei uno dei pochi che da come ho visto nel video spieghi preciso e diglio grazie mille perché spiego un po' più terra terra invece quelli fanno tanto casino ottimo ottimo sono contento detto aiutato quindi ho subito gol va bene va bene madonna ragazzi il jolly grazie mille luca ti consiglio di entrare non so se usi playstation pc comunque ti consiglio di entrare nel nel nostro discord che facciamo diverse attività da pc giochi pc un po' tutto dai un'occhiata se non ti piace poi esci però intanto guarda c'era un buco nella rete vero grazie luca lo so mi ha portato fortuna stai perdendo cosa Ryugan cosa cosa Ryugan Ryugan occhio se vinco questa partita te sei sotto capito se io vinco questa te sei sotto amico caruccio vediamo Roma 10 partite giocate interotto con questa è la nona te hai 15 o 13 punti ora ne ho 14 momentaneamente attento schifoso di supero già superare Ryugan giocalo grande Zeko che palla che mi mette fa degli assist Zeko allucinanti Sturaro Stego a dire Sturaro niente si Zeko ma se mi superi di un punti un punto il campionato è lungo e ancora dobbiamo fare contro madonna dobbiamo fare contro si si ma mamma mia come trema dai dai sappiamo in testa a chi Zeko dove sei vedi più vicino Zeko su più vicino liberati si si ma non è lì ottima palla invece comunque hai visto che Coridan ha chiuso il server di RedVaid Coridan fatto bene eh ma non ha senso dopo un po' non avrebbe senso giocare a quel gioco non fanno boh manca qualcosa sì ciccio mai non devi tenti di confondermi ti conosco io a te schifoso no sculoso era più facile prendere gol qui che salvarsi eh occhio al cazzo di progno di progno di progno pizza sì così è la faccia tua schifoso brutto che non sei altro c'è la tonzilla la vole ho trovato la posizione per Keita raga eh andiamo così oh momentaneamente sono a miglior difesa pari con fruttivera 14 reti subite io 14 lui ma stessi tu mi sono già lavato i denti schifoso senti che alito vai a lavarti ma l'arte dei denti io ce l'ho sempre lavato schifoso ho visto anche il colluttore non sai neanche cos'è che e anche lo scovolino cos'è lo scovolino ora mi rispondi cos'è lo scovolino igiene dentale zerde proprio immagino lì con la cioccolata sbavata fum vai su internet a vedere cosa è lo scovolino vai bambino occhio al cross guarda come mi vuoi confondere il bambino piccolo sì ma non posso non tira così oh no quello è l'urlo di barella qui pure i dentisti ti parlano dialetto che se l'ha fatto il gol va bene ma due trattino due ridere a crepa pelle oh iam culo miglior difesa ufficialmente andata via eh già porca puttana miglior difesa seconda miglior difesa ora la miglior difesa è Udinese ci pensavo mia è vero vabbè però sono sempre lì potevano far male da lì potevano far male da lì potevano far male da lì parella manuel lazari lautaro martin è tutto solo è gol è gol e andiamo alla faccia di di quello schifoso di Rügen coglione coglione inter andiamo andiamo accedere io al Genova si riparte con il Genova sotto nel fruttetto si giocherà ancora per 120 secondi e mi ria e mi ria ti spacco le gambe fino a che non la piglio eh no non va mi dispiace oh dai potevo mantenere la miglior difesa ma sono pari o eh no uno più lui sono a 15 reti subite mi sa 13 inter 13 subita era aggiornata ora hanno subite 2 15 quindi vaffan brodo miglior difesa Udinese per ora ecco il calcio di inizio del Genova e sta così sono più comodo ah occhio all'Inter che avanza Geco oh attacco dell'avversario gran palla pericolo Lautaro Martinez ottimo l'intervento arbitro arbitro rubano prova a segnare prova a segnare vedi il primo gioessi che la PlayStation 5 e vola fuori da finestra battle continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto per favore mi mettesse più volta questo napo oh scemo non vale non vale ah coglione no no ma ma non lo lancio perché è legato se no non l'avrò lanciato ridi 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 che non è finita schifoso fare detto rovella gol di rovella miriamo mi infilo ma divertente per tua sorella ma ti ho sbaglio ma sono tranquillissimo perché non lo fa no 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 ma sei un coglione ma io guarda che culo sempre Scrinia va a fare stronzate Jimmy non può far tutto però non può far tutto Jimmy non può fare tutto Jimmy guarda come un bambino vado a perdere palla quante emozioni soprattutto quanti gol punteggio sul 4 a 3 ferma tutto e riconquista il pallone ecco Gosens sì ma non lì sì mia 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 no sta non la piglia ok vai incontro vedi adesso scarso messaggio di Ryug entra a 3 2 1 guarda io che è meglio che non scrive perché guarda non è che ha ha tanto da parlare lui perché se vuole scrivere che chita per ciala sì ciao scrignar si mette bene sulla traiettoria lontana vai vado mentre vuoi no è mica bambino che perde tempo eh mica la fiori ti spacco una gamba oh scemo di merda ottima chiusura difensiva eh sì ma via piglia ripartiamo grazie bella aspetta fregalo oh ma no VAMONOS ed in Zeko ed in Zeko oh un attimo un attimo un attimo che festeggio concentrati sulla partita risultato di nuovo in parità lavoroso 4 a 4 ovviamente non subito ne più andiamo 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 questa è buona ok sì 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 è mia oh è mia ok a giro attenzione attenzione gioppone al tiro occhio a Zeko che è in a balde può colpire da lì no è tu ed in a bambino ed in a bambino che la passa vai che la spazza vai che la spazza vai no è buona è buona è buona è buona è buona continuo sei lo sfigato brutto Dorellino Marcio dai 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 eh mettila qua sono già pronto la 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 metti vai devi spazzare questo mastardo schifoso mi fa perdere tempo ora dai a tenere palla lo devo far attaccare è l'unico modo almeno tira gliela paro si ma l'unico modo mi ha fatto bene ma cosa lo fai attaccare porca malosca l'ho fatto anche passare l'ho fatto maledetto schifoso maledetto bambino genovino oh ma hai rotto il cozzo bambino bravo tieni palla non voglio vedere il commento di quella schifosa intanto faccio il culo a Sassuolo e ti subito c'ho ancora una partita non ho capito Sassuolo si è fatto mi spiace il culo a Sassuolo e ti subito schifoso dai guarda se lo vedrete l'interno da Roma sopra allora le reti gli assist pure se la pareggi sei sotto faccina con sorrisi e occhiali da solo è reti assist cosa no perché se vinco col Sassuolo ora vedi vado faccia di culo l'altrice vado a 6 e ti subito se vinco e lui fa ecco sei sotto di due punti faccina sì ma c'è c'è il Sassuolo sfigato le reti nessuna munizione nessun infortunio ragazzi grazie a tutti per essere stati qui con noi ci vediamo nella decima giornata dove si andrà a combattere contro il Sassuolo da Frank Manzio è tutto poi si chiudò grazie a tutti